Lo leggete sopra le nostre teste ragazzi, l'hotel è lo stesso ma la città è diversa Siamo al Melià di Genova, domani si giocherà Genoa-Inter, ultima partita del 2023 Ultima trasferta del 2023, penultima partita del girone d'andata, noi ci siamo Ciao a tutti amici Nerazzurri, eccoci a Genova, eccoci al Melià di Genova A breve arriva la squadra direttamente da Piano Gentile E allora li accoglieremo come giusto fare e domani poi si andrà al Marassi per Genoa-Inter Foto e video? Ti ho detto che era scortato Foto Di più al città scendendo, a Cerri, a Cerri La limofra erano tutti eh Oh, mister Ho iniziato a prendere il pennarello, santo Dio Dov'è sto pennarello? No, no Mister Ascolta, preparate la foto, preparate la foto Termino il video, terminino il video Chiara mister Eeeh Bastoni Bastoni No, un piccartellone, Samu Un piccartellone, non si è fermato Ma va, vai, vai Un autografo Ma che ti fai? Ma che ti fai? Ma che ti fai? Oh, Matteo Sei inizi Io non ho fatto mezzo video, stai facendo i video Ma chi è che stai facendo i video? Ma chi è che stai facendo i video? Please Grazie 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 c'è la grazie 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 pullman che se ne è appena andato ragazzi però i giocatori sono arrivati più o meno alle 8 e 10 quindi domani tra 24 ore praticamente si scendere in campo per la diciottesima giornata in serie A e questo era il nostro video dell'arrivo dei ragazzi qui a Genova se vi è piaciuto mettete la commentate condividete iscrivetevi al nostro canale di youtube attivate la campanellina per sicuramente tutto il nostro video passate da tutti i nostri soggetti che trovate nella descrizione noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live forza bella